Mettete mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi avete un profilo Instagram. Ciao a tutti, io sono Valerio ed oggi siamo in un nuovo video. Come vedete lui sa non c'è perché siamo in vacanza insieme, ho deciso di torturarla per un giorno intero, per 24 ore. Se avete un altro video tortura mettete mi piace, arriviamo almeno ai 20.000 like. Inoltre io e Luisa finalmente abbiamo freddo di registrare la scommetto e non lo farai parte 9. Quindi questo sabato mettete la sveglia perché alle 14.30 uscirà. Se siete iscritti al canale, iscrivetevi, detto ciò iniziamo. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Luisa la finisci di studiare andiamo a mare No io vado un attimo E io mi vado a mare tengo già il pallone Andiamo a mare Ma sei scemo mi hai lanciato il pallone in faccia E io andiamo a mare No tu non puoi essere registrosa No 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 fermo Luisa hai 10 secondi per alzarti e andare a mare Ho detto 3 minuti e vengo No 10 secondi Luisa vuoi andare a mare Mi sembra normale che sono passati 20 minuti e non siamo ancora a mare Sa proprio che Luisa era punita Chiudi questo video No mi hai scocciato Chiudi Luisa ha fatto pulire tutti i piatti a me Mi sembra normale Oh Lu che stai facendo Ma li stai nascondendo Ti nascondi alle torture No sono bagnati i spugnati Schifuti Ma che cavolo è No Perché Ma che stai nascondendo Ma che stai nascondendo Ma no 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 Ti fai nascondendo Vestina Non respiro Ciao Oh Lu Luisa Ma che stai nascondendo Lu e tenete giù il caffettino Voluma è ancora bruciata Penso di essere mi bruciata La gamba Ma perché? Ti ho messo un po' di crema Ti sembra questo il po' di... No No Dai Valerio No Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Se mettete like a questo video Raggiungiamo almeno i 20.000 like Sarò io a torturare questo essere Non credo proprio Quindi avrò la mia fantastica vendetta Quindi mettete like a questo video assolutamente Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi E diventate in questa family E diventate dei withers Basta accadere in questo pallino E vedete questi due video E al prossimo video